Per la prima volta, dopo due anni, vedo chiaramente davanti a me un fatto sconvolgente. Non mi è successo niente. Cioè, ho fatto un sacco di cose e non mi è successo niente. E quando nulla accade, l'unica via di scampo è la poesia. Allora mi sono comprato un diario. Scriverò dei resoconti in forma poetica. Ma come fare se la matita della mia vita è oramai spuntata? Eeeh, che schifo. No, facciamo così. Che è più pratico. La poesia me la compro. Hai poesia? Hai poesia o no? Cos'hai? Montale. Se no, fai vedere. Ecco il nome della rosa, quello di Repubblica. Questa è roba sintetica, eh. Questa è sintetica. Poi me la sono già fatta un po' di anni fa. Bello però, è sintetica, no? Qualcos'altro. Solo Montale. Quanto ne hai di Montale? Beh, neanche tanto. Che facciamo? Dieci? Quanto vuoi? No, otto, dai. Vabbè, è andata, dai. Lo provo? Upupa, ilare uccello calugnato dai poeti, che roti la tua cresta, sopra l'aereo, stollo del pollaio. Mi ricorda un po' il liceo. Cioè, è buona, però mi ricorda un po' il liceo. No, non la prendo tutta, guarda, ne prendo soltanto. Sì, questo basta, va. Sennò poi, metto dipendente. Grazie. Ciao. Buonavitù? Oh. Suuh, parola. Buona notità. Buona notità.